Poi non bisogna mai dimenticarsi che qui non esiste e non è mai esistita un'adeguata legislazione di aiuto agli stadi di calcio, perché l'unica volta che sono stati fatti dei lavori negli stadi di calcio, nel lontani anni 90, e io se debbo andare a valutare i 75 miliardi o più spesi al San Paolo, dovrei dire qual è quel magistrato che ha fatto in quel momento una verifica di come sono stati spesi i soldi e per cosa sono stati spesi, visto che lo stadio San Paolo si inquietano quando io lo definisco un cesso, ma tale è, nel quale io ho dovuto investire anche alcuni soldi per mettere a posto determinate strutture, altrimenti le signore, mogli giustamente dei calciatori con i rispettivi figli non avevano nemmeno i bagni dove poter andare a fare i propri bisogni, quindi voglio dire è un problema secondo me quello del calcio, quando io vi dico io sono entrato in un mondo dove...